Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch ragazzi, possiamo farlo da soli in sessione privata, i requisiti sono, per il primo step abbiamo bisogno di una LG RH8 o una qualunque auto retro custom insomma, una qualunque auto custom, abbiamo bisogno del centro operativo mobile, la mira manuale ragazzi, questo glitch è buono sia per gli utenti di PS4 che di Xbox One e una community oppure un amico che sta giocando in un'altra sessione con un'altra modalità di puntamento diversa dalla nostra. Quindi a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avviare nella community un partecipa a sessione, io lo faccio due volte perché la mia connessione è lenta quindi lo faccio due volte. Accetto il primo messaggio e schippo il secondo, schippo con cerchio, quindi mi posiziono davanti al bunker, come vedete la seconda volta quando lo riprovo viene più veloce, mi posiziono davanti al bunker, vado per entrare, community, partecipa a sessione, accetto il primo messaggio e schippo il secondo messaggio. Quindi a questo punto dovremo rimanere ragazzi in questa schermata per un minuto, 60 secondi in questa schermata, non rimanete meno perché ci può stare che il bug non vi riesca se rimanete meno tempo. A me a volte ha funzionato anche con 45 secondi ma meglio 60. A questo punto quando è passato il tempo, cancellate il messaggio, rifate il doppio tasto PS, riandate nella community e fate un partecipa a sessione, accettate il primo messaggio e schippate il secondo messaggio, con cerchio ragazzi. E andate, start, online, starter pack, entrate dentro e dopo di che cancellate ragazzi. A questo punto potrete muovere la visuale, però non potrete muovervi voi, l'unica cosa che potete fare è scendere dal veicolo, scenderete dal veicolo e vi troverete in strada con l'auto. Qui l'auto ragazzi non potrà muoversi, per questo abbiamo bisogno del centro operativo mobile che dovrà avere un veicolo dentro. Io qui ho fatto un po' un casino perché ho parcheggiato il centro operativo mobile a un punto che non si muove proprio. Ho detto vabbè così non faccio traffico, invece niente. Comunque sia, adesso sgancio la fottuta motrice. Vediamo un attimo come si può risolvere la cosa. Ragazzi vi dico la verità, non c'è stato verso di muovere, non c'è stato verso, sarà proprio incagliato. E l'unica cosa che dobbiamo fare ragazzi, nel mio caso io vado a spingere la LG vicino al posteriore del camion. Però voi se l'avete parcheggiato meglio, parcheggiate il camion davanti alla LG, il gioco è fatto. A questo punto salite sulla LG, premete la freccia a destra e rifiutate il messaggio. Il centro operativo mobile deve essere pieno, deve avere una LG RH8 dentro. A questo punto ve ne andate in base operativa. Qui vi faccio vedere la data ragazzi, in maniera tale che capiate. Questo è l'unico money glitch da solo funzionante. Date ora, eccola qui ragazzi. Nella base operativa ragazzi dovrete avere una bicicletta, bicicletta qualunque, BMX o quello che sia. Ci sono molte persone che ce l'hanno ancora, la BMX dentro la base operativa. Ci sono altre persone che non ce l'hanno. Però a seguire di questo video porterò un after patch per poter mettere la BMX dentro la base operativa. E fare questo glitch da soli. Io qui sono arrivato a 3000, sono arrivato. Dato una bella facciata di quelle proprio, ecco, tipo questa. E ragazzi, quando saremo qui, che cosa dovremo fare? Dovremmo premere freccia destra e R2. Io qui sono entrato, ma non succede nulla se entrate nel cannone. Lo rifate e siete a posto. Quindi, salite sulla bici, premete freccia destra ed R2. E il gioco è fatto ragazzi. Se spawnate fuori dalla base operativa senza bicicletta, il glitch sta funzionando. Quindi prendete la vostra LG. Chiamate il centro operativo mobile. E dopo di che la andate a mettere nel centro operativo mobile e poi la potrete riportare tranquillamente o in garage o nella base operativa, dove cazzo vi pare a voi. Il glitch è abbastanza semplice ragazzi. L'ho voluto riprovare, ho visto che funzionava, quindi l'ho ripostato perché ci sono molte persone che odiano fare glitch in due. E questo money glitch da fare da soli diciamo che è abbastanza buono secondo me. Non è di grandi difficoltà, l'unico problema è avere una BMX dentro la base operativa. Però poco male perché a breve vi porterò un video su come mettere la BMX dentro la base operativa. e come duplicare anche la BMX se funziona ancora ragazzi. Quindi devo controllare, devo verificare perché il glitch di ieri quello in solo è stato patchato. Io qui ero convinto che c'avevo ancora quel garage invece niente. E' stato patchato il glitch di ieri e quindi nulla, anzi è durato tantissimo col glitch ragazzi. Era ottimo, secondo me come glitch era veramente ottimo. Scusate ragazzi ma sto parecchio attappato, ho l'influenza, ho 38 di febbre, 38 e 2 e 6, non lo so, manco mi ricordo. Quindi sto bello attappato. A sto punto ragazzi eccola qui l'auto. Che altro dirvi, approfittate di questo glitch se avete una BMX nella base operativa. Detto questo vi lascio un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.